È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Abbiamo lavorato tutta la settimana pensando di vincere il gioco. Lo sappiamo che è molto pericoloso. Ovviamente sappiamo che abbiamo una disavvantaggio. Ma al final del giorno, se ti giocano per gioco, ti perdono. Quindi devi solo andare a fare. E spero che possiamo giocare un grande gioco. Credo che la squadra è pronta. E spero che possiamo fare bene. Credo che sì, sono pronta. All'Inter è pronta per questo, anche con i nostri fanci. Siamo i nostri fanci, quindi dobbiamo andare lì. E dobbiamo vincere solo una risa di oggi. Non è solo la battaglia per la finala Champions League, ma anche la showdown per il Campo Panagniere. Ciro Immobile, back from injury, con 29 gols. Icardi, one behind him. elnigio! Giassatino, lo scusate per il campo, Pogliare il sottotitutto. Sì, tutti la scuola. Lluis, Alberti, skies and airfoci. Lulic, downward header! Andanovic saves! Deep ball playtime, Linkovic-Savic plays it back, deflection! Oh, it's in the back of the net! Maricic, he can't believe it! Lazio can't believe it! Perisic can't believe it! A stroke of good fortune! Oh, Lord, the Cardi's in here! Maricic, oh, he's dragged it wide! So unlike the Inter captain! Free kick, Linkovic-Savic, oh, the post! So close to the second goal! Or it comes in, goes to face the goal! And it's home! D'Ambrosio! That is great reaction by the Inter defender! Breaks on here, Lulic, has to look up! Press the ball through! Filipe Andersson! Oh, strokes at home! As cool as you like from Filipe Andersson! Lazio have the advantage for the second time! Oh, what a match we have here this evening! That's a few clearings by Strakosha! Open, back in! Icardi goes dark! Referee, no, not a man! Help me! Icardi! Oh, Icardi! On the score sheet! Inter back in this game! The challenge there in Lulic! Second yellow! And he's off! Press, we're upset! The game has been dunked on his head in three minutes! And there is the final whistle! Inter have beat the Lazio and are in the Champions League! Inter have beat the Lazio and are in the Champions League!